Ok, benvenuti ragazzi, io sono Gisus e oggi si riprende con Megami Star Force 3, Black Ace. Noi siamo andati a distruggere quei strani esseri, strani esseri creati dal dealer e che sono contenuti nel mondo rumore. Oggi penso che dovremmo continuare, ninja non ha fatto ancora in termini, non ti capo dirlo. Spero di migliorare nella mila perchè, se no, l'ultima volta è stato semplice ma se mi rendo più difficile sono un po' di vuoi. Arrivo. E' molto dialogato da parte di Rogue, eh? Oh oh, questo tipo è anche più forte dell'altro. E niente! Forza Rogue! Non esaltarti troppo, noi che facciamo squadra è una cosa temporanea. Peccato. Oh 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 Ok, non ce l'ho fatta. Devo stare mirando, devi far meglio di così. Scusa, non è affatto semplice. Ok. Oddio. Ok. Scusate ragazzi, non è così semplice come sembra. Io sono dall'emulatore, poi. È finita. Andiamo. Sbrigiamoci, vede. Cosa dovrò fare? Ovviamente, corre. Corre come un bambino. Sta arrivando. Questo è ancora più forte. Spero che non ce ne sia un quarto. Andate in più. Ok. 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 Dai, miro, miro, miro. Ok. 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 Ne sto tirando 3 scelte. Ok. 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 Ok, ce l'abbiamo fatta ragazzi. Perfetto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ma che cosa, ciao, ciao? Ahaha. Mi è piaciuto. Vai così, vede. Ok. Andiamo. Preparati. Questo rumore è pazzesco. Oddio mio. Dobbiamo continuare. Allora, qui c'è un trapto. Ok. Non gli facciamo niente. Non gli facciamo niente. Ok. Mette ansia, sto coso. Ok. Dai ragazzi. Dai, 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 dai. Dove, io, io li volo, ne. Dove, io li volo, ne. Dove, io, io li volo, non lo. Fatto. Dai ragazzi. Ok, uuuh, lani si ha, fuori dai piedi, ok, what, riparo la guai, eh, se non ce l'ho E io stavolta mi stacciavo, eh? Ah, pensi davvero che sia così debole? Una volta che questa faccenda sarà conclusa, ti pentirai veramente di avermi sottovalutato Ma io t'ho salvato la vita, ahhh, che idiota arrogante! Rogue, dovremmo andare anche noi, mega Ok, io salvo perchè quella roba io non riuscirò mai a farla qui nella vita Ok Il tetto è più avanti, e Jack è lì Ehi ragazzo, sei davvero pronto per questo? Pronto? Pronto per prendere a calci Jack? Devi essere assolutamente pronto alla lotta se vuoi proseguire Non avrai possibilità se la tua mente non è concentrata al 100% Credo che tu abbia ragione, ma voglio ancora parlargli dandogli una possibilità di fermarsi prima di... Se riesco a farmi ascoltare so che potrei vero Hmm, cosa credi di poter... di poter dire per convincerlo? Perchè Rogue? Ancora? Non mi arrivi più? Sei così ingenuo da farmi star male, sarò io quello che mi intera ha capito Ma prima, prima sistemalo te Ti ho aiutato fino adesso, davvero? Di che stai parlando? Non abbiamo tempo per... Sei davvero ingenuo Svegli ragazzi, ecco che arriva Ok, evidentemente avremo tempo di affrontare Jack dopo e avrò tempo di farmi vedere perchè odio dannatamente tanto lui e perchè lo ritengo la mia negli Sì Anzi Allora, passiamo alla scheda tecnica di Rogue Prima di tutto, ha una barriera Che non sta tirando stranamente fuori Strano Di solito, ogni turno lo vedete di cascola No, 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 no Invece ma sono si ricarica e mi portava un pochettino Vieni qua Non so, con l'attacco non c'era nella versione Fattamente non vuole neanche sapere cosa facesse Però Oh Ok No No Oh, l'ho preso all'ultimo Ho scappato un tasto ragazzi Guardi Ragazzi Possiamo fare il server meteorore, c'è l'accesso al server meteorore Non pensavo che ce l'avrei mai fatta Però Va bene Questo ragazzi mi stavo per vedere Ok Ok Non pensavo di farvelo vedere così presto No Avviva la guardia Bye bye Oddio, ci ha dato la sua carta Questa Questa è una figata sua Oh Oh Probabilmente hai ragione Jack non vorrà ascoltarci cosa da dire Ma... ma mi rifiuto di... Ho cambiato idea Credo che ti darò ascolto E che da poi... e che poi ti verrete buoni amici Ma un giorno si rivolterà contro di te E rimpiangerai tutto quanto Cosa intende dire? Ok, è strano Ehi ragazzo, non c'è tempo per questa garineria Wolf sta tendando di ristrarre Jack per noi E ricordiamo che Wolf è elemento legno Il mio oggetto è elemento fuoco Quindi... è fottuto Oh, è vero Dobbiamo raggiungere il tetto Scusi il ritardo Mr. Wolf E... è molto forte Ho giunto il limite Ragazzo, non girate indietro Ho ricevuto Ehi Wolf Felici di vedermi? In ritardo come sempre Omega exist l'ho tenuto in caldo Grazie E in cambio prenderò a calci il suo culo Oddio, l'avremmo detto Grazie, scatelo il tempo Pensi davvero di potercela fare? Avanti piccolo Omega Crede davvero che tutte le cose che dici possono smuovermi? Adesso che me lo dici caschi sempre in questi trucchi Maledetto, te ne pentirei amaramente Oh, si Possiamo andarci da fare? Fatti sotto Ah, non vedo l'ora Jack Jack Piantami di fregnare Corvus Sono stanco di sentirti in continuazione Con del tempo a disposizione riuscirai a non lasciare alcuna traccia di te Con queste mani ti mostrerò il vero dolore E ti spazzerò via dal mondo Jack Devi fermarti e pensare Sei un nostro compagno di classe Ed è nostro amico, giusto? Siamo andati in gita assieme Ed abbiamo condiviso tanti miei ricordi O era tutta una finzione? Faresti bene a darti una svegliata amica Amici? Ma fammi il favore Stavo solo fingendo di essere vostro amico Sei patetico Ti ostia a fidarti di chi ti ha mentito per tutto il tempo? Credi che mi importi? Cosa? Jack Non importa per quale ragione ti sei unito a noi Durante la gita abbiamo passato del tempo insieme E ci siamo divertiti Fin quando condivideremo quei ricordi Sarai sempre un nostro amico Ascoltalo Jack Anche io mi sono super divertito in cima a te Durante la gita Non importa cosa dici Il tipo che era con noi Rimane nostro amico Zitti State zitti 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 Voi ragazzi siete davvero fastidiosi State zitti Ah ok Intendo eliminarmi E eliminano tutti quelli inutili ricordi E voi con loro Di Jack Ehi ragazzo Si lo so Lo so obbliga Bud Sonia Mi dispiace ma Devo lottare con Jack da solo Vi prego fidatemi di quei questa volta Capisco Geo Geo crediamo in te Grazie ragazzi Jack Sei il nostro amico Ed ecco perchè Perchè devo fermarti Otto No onda lotta Il Onda Ma lo sconfiggiamo dalla prossima parte Quindi se vi è riuscito lasciate un commento Mettetevi piacce Iscrivetevi E riusciremo nel prossimo video Bella ragazzi Calvi 36 Fate arrivare al 4 35 Lo volevo Lo volevo Io non lo volevo Lo volevo Draco È